come avete costruito il vostro rapporto sul set e fuori dal set vado io ma allora noi ci siamo conosciuti e il nostro primo incontro è stato a casa sua a casa di tiziano tito per gli amici e dopo essere stata abbattuta a biliardo dopo aver cercato di di catturare un coniglio dopo aver cercato di sottrarre delle uova la sua gallina abbiamo mangiato la pizza e mi ha insegnato un trick con lo skate da lì è partito tutto tanta roba come è stato tiziano vedersi sul grande schermo strano perché io non mi ero mai visto su uno schermo magari ero abituata a vedere la gente magari e pensavo fosse normale no poi dopo magari vedendo dietro le quinte e tutto vedendo lo schermo era stato un po' strano è tutto un po' strano stato perché di solito sono abituata a vedere l'altra gente sullo schermo non me stesso è la prima cosa che hai pensato quando ti hanno raccontato la storia ti ha entusiasmato? all'inizio non lo sapevo non l'avevo capita avevo letto solo le prime parti perché me le mandavano a pezzetti e quindi all'inizio non lo volevo fare sinceramente e poi dopo alla fine ho capito la morale e quindi ho detto va bene facciamolo così magari anche per far capire alla gente lo sbaglio di questo film in questo caso Walter Virginia tu invece quando hai letto la sceneggiatura la prima volta che sensazioni avevi? no avevo io mi sono lasciata portare dalla dalla storia ecco e venendo appunto da un da un'adolescenza da un'infanzia con film come i Gunis, la storia infinita, labyrinth e tutto questo questo mondo dove la realtà si mischiava alla fantasia qui ho ritrovato queste note fantastiche e mi ha conquistato per questo volevo chiedere Tiziano qual è il tuo film preferito quello che guarderesti diciamo senza stancarti mai? non lo so a me piacciono i film di azione io non sono un amante dei film però magari quando mi capita di vedere dei film di fantascienza, dei film di azione quelli là me li guardo perché perché mi piace tipo quando la gente per esempio ha i superpoteri tutte queste cose qua no in generale però adesso sinceramente non mi viene un film proprio che ha queste cose però se è fantascientifico oppure d'azione secondo me è perfetto Virginia che tipo di film è questo per il cinema italiano? cioè può rappresentare una sorta di un'anomalia un'azione di coraggio strana sta domanda poi a me adesso cosa posso rappresentare per il cinema italiano? è un po' tanto cioè proprio è un allora io sostengo che le opere prime vadano incoraggiate appoggiate mi sembra un'opera prima coraggiosa e portata avanti con con tanti cuori quello della produzione da Mainetti a Davide a chi ha fatto il film nel senso che anche io ho messo tutto quello che potevo mettere per sostenere questo insomma non so che sorti avrà ovviamente gli auguro le migliori delle sorti e buona fortuna e speriamo che voli voli anzi nuoti lontano questo squalo insomma però insomma anche aver fatto semplicemente un un buon film è già già tanto insomma grazie grazie mille grazie fatta riposare perché te vedo veramente stanca no 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 perché te l'ho detto eh sì se mi alzate questi assist io non ce la faccio non sapete no grazie a tutti Grazie a tutti.